La crisi interna al PD non frena la chiamata alle adesioni. Questo del 29 e 30 a 31 gennaio è infatti il weekend della festa del tesseramento. Come spiegano Enrico Nicolelli, tesoriere, e Cristian Fanesi, segretario della sede fanese del partito, che parla anche della situazione del PD dopo la polemica degli scontenti guidati dall'ex sindaco Cesare Carnaroli. Al via il tesseramento del partito democratico di Fano ci spiega come si fa ad iscriversi. In questo fine settimana partirà il tesseramento per il 2010 e terremo aperta la sede di via Puccini dal sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e 30 e domenica mattina dalle 10 alle 12 e 30. Tutti coloro che erano già iscritti o i nuovi che si vorranno iscrivere possono venire qui in sede a ritirare la tessera oppure a prendere la nuova tessera. Il tesseramento proseguirà i primi 15 giorni di febbraio. Siamo in campagna elettorale per le regionali. Quali sono le vostre iniziative a sostegno dei due candidati Stefano Marcheggiani e Vittoriano Solazzi? Le iniziative principali verranno dai circoli, dai nuovi circoli cittadini. Saranno il vero cuore della campagna elettorale. Ogni circolo naturalmente in questi due mesi proporrà un'iniziativa per territorio, per zona dove saranno presenti i due candidati. A livello di Partito Democratico Fanese avremo delle iniziative d'intesa con il provinciale. Sicuramente verrà un leader nazionale. Ci saranno un paio di forum che si svolgeranno nel territorio di Fano, in particolare il forum del lavoro dove anche i nostri due candidati interverranno. Cristian Fanesi, segretario del Partito Democratico di Fano, da poco più di un mese immaginava un impegno così difficile e duro? Non me lo immaginavo così duro. Certamente siamo pronti per una campagna elettorale che è molto particolare, molto impegnativa, su un quadro nazionale non positivo, su un quadro locale difficile. Io lavoro con la tranquillità e tutti insieme in questo partito lavoriamo con tranquillità per raggiungere un risultato importante che è quello di eleggere i nostri consiglieri regionali, per eleggere il nostro presidente Spacca e per fare una buona figura anche sul piano politico qui a Fano. Lei ha nominato gli organismi dirigenti del partito e ha avuto subito le contestazioni. Un gruppo di dissidenti o come lei preferisce chiamarli autoconvocati. Qual è il rapporto adesso? Sono persone con cui ho un rapporto da prima anche buono. Gli hanno chiesto delle risposte politiche e certamente arriveranno a breve, però in questo momento siamo impegnati nella campagna elettorale, anche loro lo saranno e saranno impiegati nel miglior modo possibile. Cosa pensa delle ultime dichiarazioni dell'ex sindaco Carnaroli? Il segretario provinciale Marco Marchetti ha detto che comportandosi in questo modo lui si autoesclude da solo dal partito. Lei condivide? No, penso che Carnaroli stia in questo partito pieno titolo, con tutto l'onore che questo partito deve dare a un ex sindaco. Non credo che succederà nulla di ciò. Chi è il vero candidato fanese alle regionali? Stefano Marcheggiani o Vittoriano Solazzi? Stefano Marcheggiani lo conosciamo tutti, è stato segretario comunale del partito dei democratisti di sinistra già diverso tempo fa e quindi è a pieno titolo candidato fanese di questa città. Ci sono anche altri candidati che hanno lavorato bene in regione, Vittoriano Solazzi è uno di questi e ovviamente su Fano conteranno anche su un appoggio che va oltre all'appoggio di Stefano Marcheggiani. Cosa risponde all'accusa che il PD fanese è controllato dalla componente ex Margherita? Il PD fanese è seriamente condotto da me e da un gruppo di giovani che stiamo lavorando con serietà e serenità. Non c'è nessun problema di questo tipo.